Dato che era l'ultima data, diciamo, non poteva essere penultima, quindi è una bella cosa. Una sorpresa, è un pezzo che non faccio veramente da tantissimi anni. Si tratta di quasi 5 anni. E calcolando che la mia piccola carriera è quasi di 6, io non l'ho quasi mai fatto questo cazzo. E' vero? Sì, è vero. Questa era una sorpresa. La seconda, la seconda sorpresa è molto più interessante, perché mi dovete aiutare voi a realizzarla. Sì, è vero che ci sono un sacco di luci, un sacco di schermi, videografiche, c'è tutto. I mammozzoni ci sta dentro, ci sta tutto. Però, la vera scenografia in questo pezzo e in altri che verranno, la dovete fare voi. E basterà avere scaricato l'app che avete scaricato tutti, ovviamente. E' un po' l'avete scaricato tutti, è vero? Ok, basterà aprire le applicazioni e poi il vostro telefono farà tutto da solo. Grazie, grazie, grazie per la sicurezza. Cosa mi aspetto da te? Cosa ti aspetti da me? Cosa saranno le piccole? Cosa farei tu domani? Cosa mi aspetto da te? Cosa mi aspetto da te? Cosa ti aspetti? Cosa? Mi devo provare in ogni momento che ci sei, ci sei, ci sei Cosa ti aspetta da me? Cosa mi aspetto io a te? Adesso che sono qui, sono qui, sono qui Potremmo dirsi così, tranquillamente, oh come andare ferma, per sempre Fammi respirare, coprare, portami dove si vola, dove non si cade mai Lasciami lo spazio, cercati, capimi dentro, dimmi nel momento che ci sei, ci sei, ci sei E no, non fermarti a quest'attimo, che non mi tornerà Dimmi che ogni momento per noi mi sarà Fammi respirare, coprare, portami dove si vola Fammi respirare, portami dove si vola, dove non si cade mai Lasciami lo spazio interno, cercati, capimi nel momento che ci sei, ci sei, ci sei Cosa ti aspetta da me? Cosa ti aspetta io invece da voi? Questa roba è un po' questo pazzo Grazie 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 Grazie